... Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Qualche istante sarà tutto finito. Scatta verso il pallone. E passa! Vuole il lancio filtrante. Occhio alla conclusione! La sfera entra in porta! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. E l'arbitro dice che può bastare. Altri magari si sarebbero disuniti. Ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità. E alla fine il risultato è positivo. Luca, ti aspettavi una rimonta così? Sono queste, Fabio, le vittorie...